... Allora, comandata, gli argomenti che avete trattato in questa prima riunione? Beh, abbiamo detto anche di come organizzare il lavoro, di questo strumento nuovo per la politica italiana che è appunto il governo Ombra. E poi abbiamo cominciato a affrontare alcuni dossier, il tema della sicurezza, il tema del Libano, il tema della RAI, questioni che sono variamente di attualità, con delle relazioni state fatte dai ministri Ombra competenti. Nel generale, che ruolo avrà l'opposizione, considerato questo clima di estremo dialogo tra istituzioni, governo? Abbiamo il compito di far pesare i consensi che abbiamo avuto in un ruolo di opposizione che sarà ovviamente ferma nei punti in cui non condivideremo l'azione del governo, ma al tempo stesso dialogante dove possiamo portare avanti delle cose che servono al Paese. Se ci sono da parte del governo delle proposte o sul fronte delle riforme istituzionali ed elettorali o sul fronte dei contenuti che noi pensiamo siano utili all'Italia, noi le appoggeremo. Se invece saremo contrari, le contrasteremo con grande trasparenza. Abbiamo letto questa dichiarazione della Melandri sulla RAI, no? Perché la maggioranza dovrebbe cambiare la legge Gasparri? Perché siamo sotto infrazione dell'Unione Europea e la legge Gasparri ribadisce la morsa dei partiti sulla RAI. Noi vorremmo una RAI diversa. Ecco, ma nel dialogo con la maggioranza per una fase costituente, il problema RAI è una pregiudiziale? No, è un tema che noi poniamo sul tappeto. Veltroni ha avuto una telefonata, si sono sentiti con Berlusconi, sono rimasti che si incontreranno una volta ottenuta la fiducia e quindi a quel punto i vari terreni verranno verificati. Grazie.